Next, next, I want to stick around the water, get my kicker and roll. Grazie, grazie alla palestra Antares di Ferentino. Volevo ricordare, prima della pubblicità, il ballo è stato eseguito dal gruppo Ginnastica Ritmica, sempre della palestra Antares di Ferentino, che ricordo a tutti, si trova a Via Casilina Sud, chilometro 76 e 400. Allora, Angelica, ci vuoi spiegare le vostre attività a Ferentino, alla palestra Antares? Sì, allora, buonasera a tutti, sono Angelica Salvati, siamo ballerini di danze latino-americane a livello internazionale, scusate il fiatone. Siamo finalisti al Campionale Italiano Assoluto 2018, da settembre abbiamo intrapeso una collaborazione con l'Antares di Ferentino. Facciamo un applauso così, riprende fiato, vai! Facciamo riprendere fiato, è stato un assassino quello di farla parlare subito. Riprendi, riprendi ancora, applausi, applausi dell'Anno Zero! Anno Zero, fatemi sentire! Di più! Organizziamo corsi di bali di gruppo e bali di coppia per tutte le età a partire dai quattro anni. Che dire, venite a trovarci, grazie a tutti. Grazie Angelica, adesso, poi tanto ci vediamo, insomma, a fine serata per la sigla di chiusura. Intanto, prima di parlare, di passare ai nostri argomenti del frosinone calcio, che purtroppo, Carolino, vedono, anzi, meno male che c'è stata questa penalizzazione del chiusura. Lui c'ha una squadra che vince e una che perde. Sì, Sielino può gioire e soffrire a seconda. Adesso, mister, se ci vuoi presentare la squadra di fiusura. Allora, sì, io i miei secondi li spendo con Alessandro Ambrosi. Ha giocato in Serie B, in Serie C, è un grande... Beh, più di...